ciao sono il dottor max in questo video ti spiego come prevenire la carie dentale la prevenzione della carie dentale è essenziale per mantenere una buona salute orale e dentale ecco alcune pratiche e abitudini che possono aiutare a prevenire la formazione delle carie igiene orale regolare spazzolare i denti almeno due volte al giorno con uno spazzolino a sitole morbide e pasta dentifricia contenente fluoro è fondamentale assicurarsi di spazzolare bene sia la superficie dei denti che quella delle gengive è anche importante usare il filo interdentale o altri strumenti per la pulizia interdentale per rimuovere i residui di cibo e la placca tra i denti riduzione del consumo di zuccheri limitare il consumo di zuccheri è cruciale per prevenire la carie dentale lo zucchero alimenta i batteri nella bocca che producono acidi che danneggiano lo smato dei denti ridurre l'assunzione di zuccheri soprattutto da bevande zuccherate e snack dolci può contribuire significativamente alla prevenzione della carie evitare spuntini continui evitare di mangiare spuntini o di sorseggiare bevande zuccherate tutto il giorno gli spuntini frequenti aumentano l'esposizione dei denti agli acidi dannosi bere acqua l'acqua è il miglior liquido per mantenere la bocca idratata e aiutare a rimuovere i residui di cibo e gli zuccheri dalla bocca l'acqua del rubinetto spesso contiene fluoro il che può aiutare a rafforzare lo smato dentale masticare gomme senza zucchero la gomma senza zucchero contenente cosilitolo può aiutare a stimolare la produzione di saliva che aiuta a neutralizzare gli acidi e a rimuovere i batteri nocivi dalla bocca usare prodotti con fluoro usare dentifrici e collutori contenenti fluoro può rinforzare lo smato dentale e renderlo meno suscettibile alla carie visite regolari dal dentista programmare visite di controllo regolari dal dentista è fondamentale per la prevenzione della carie il dentista può eseguire una pulizia dentale professionale per rimuovere la placca e il tartaro identificare precocemente eventuali problemi dentali sicillatura dei denti per i bambini e gli adolescenti i dentisti possono applicare sicillature protettive sui denti molari permanenti per proteggerli dalle carie le sicillature creano una barriera fisica contro i batteri e i residui di cibo evitare il fumo e il tabacco il fumo e l'uso del tabacco possono aumentare il rischio di malattie gengivali e compromettere la salute orale generale gestire condizioni mediche alcune condizioni mediche come il diabete possono aumentare il rischio di carie gestire queste condizioni con la consulenza del medico può contribuire alla prevenzione delle carie seguire queste pratiche di prevenzione della carie dentale può aiutare a mantenere una bocca sana e un sorriso brillante la prevenzione è spesso più semplice ed efficace che trattare le carie dentali una volta che si sono formate grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video che puoi commentare raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità buon proseguimento ci vediamo alla prossima domanda esaminata buon proseguimento ci vediamo alla prossima domanda ciao